Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo fantastico... Oh mamma mia, aspettate un attimo, devo andare a vedere che è successo Ragazzi, era il corriere, sta bene, sta bene, però mi è arrivato un pacco decisamente strano Manda StumbleGuys, ragazzi! Arriviamo a 5.000 mi piace e chiederò direttamente ai creatori di StumbleGuys Di mandarci degli Stumble fatti apposta per noi Uno Stumble bella faccia, uno Stumble Grim & Shake, proprio così Perché stiamo facendo girare l'economia di StumbleGuys E quindi mi raccomando, un bel mi piace a questo video E iscrivetevi ragazzi, dobbiamo arrivare a 50 di milioni di miliardi di iscritti No, a parte gli scherzi, a 400.000, ok? E' semplice, anche la campanellina magari se riuscite ad attivarla Così non mi perdete i video, eh? Così Quindi bando alle sanse, apriamo questo box di StumbleGuys Fresco, fresco Raga, sono le minifigures in 3D di StumbleGuys Cioè guardate che roba, 26 da collezionare Serie 1 E guardate quante sono raga Guardate che belle Ci sono le Glow in the Dark Cioè addirittura brillano nel buio E le Crystal No vabbè, io devo subito aprire questo box raga Devo subito aprire questo box incredibile insieme a voi Apriamo Poi io questo me la tengo, ma è bellissima Oh Ma ce n'è una gialla Raga, ce n'è una gialla Ce n'è una Ah, è al contrario Era al contrario Cioè raga, quanto sono belle queste buste Queste bustine 3D minifigures Guardate che belle Serie 1 Cioè questa è veramente Questa è la prima edizione dei Pokémon di StumbleGuys Mamma mia E guardiamo il retro raga Guardiamo il retro Mamma mia Aria, aria Ok ragazzi Quindi se ne sono 26 in tutto Con 8 Con 8 speciali Guardate che belle Ci sono le Chrome Le Crystal E le Glow in the Dark E noi le troveremo tutte Vi ricordo che le 3D minifigures di StumbleGuys Le potete trovare in edicola Quindi che aspettate Un bacione a StumbleGuys E cominciamo raga Cominciamo a spacchettare Forza Cioè guardate che bello anche il pacchetto È quasi un peccato aprirlo Raga C'è una Crystal C'è una Crystal C'è una Crystal della Valkyria C'è una Crystal della Valkyria Io ho trovato C'è una Crystal Ok basta Cioè guardate che bella Ragazzi ma è fantastica Le mettiamo tutte qua davanti Se ci sta eh Ragazzi c'è già una Crystal L'ho trovato Raga andiamo avanti Perché i pacchettini Sono veramente tanti Apriamo il prossimo Forza Vediamo Oh Il punk arrabbiato Con la cresta rossa Ragazzi arrivo a un milione di iscritti Con questo canale Mi faccio questi capelli Ehm forse Il punk dude Abbiamo trovato Bellissimo Ragazzi ma quanto sono belle Queste 3D minifigures Quanto sono belle Se io vorrei averne una mia personalizzata La banana ma è bellissimo raga Raga ma è bellissimo guardate Ma sono fatte da dio Sono fatte benissimo Se raga guardate che roba Sono la banana La banana Guardate con il simbolo StumbleGuys È bellissima raga Banana che hai trovata No non sta in piedi raga La banana non sta in piedi Aiuto È scivolata Vamos Con il prossimo pack Chi c'è qua Raga Il pulcino metallico Ma quanto sono fatte bene raga Queste si Sono quelle proprio originali Si sono fatte benissimo Ho trovato una chrome La mia prima chrome raga Che la mettiamo qua Fantastico Ma quanto sono belle Comunque io voglio sapere Se anche voi Aprirete Questi pack Queste mini figure 3D raga Perché parlare inglese Ma che cavolo non so Apriamo il prossimo Allora Per chi mi segue Sui video di StumbleGuys Saprà la storia di questa skin È una storia che mi fa veramente arrabbiare Anubis L'avevo scioppata a mille gemme Scioppata quindi a mille gemme E poi dopo qualche mese me l'hanno tolta Me l'hanno tolta dalla vista È ingiusta È ingiusta la vita È ingiusta Quindi raga Anubis Anubis Ce l'abbiamo Vai col prossimo pack Attenzione raga Qui un pezzo è cascato No la mano La mano raga Si è staccata la mano No 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 Rimettila Sei pazzo? Ecco qua Lo Yeti Fantastico Abbiamo trovato anche lo Yeti Guardate che bello La perfezione Ma l'ho dato un bacino Questo Yeti Ok raga Prossimo pack Prossimo pack Attenzione il dinosauro Il dinosauro Bellissimo raga Guardate che bello Abbiamo trovato Quindi Il dinosauro che nemmeno lui sta in piedi Non sta in piedi raga Mi dispiace ma non sta in piedi Continuiamo raga perché a me questi pack mi piacciono tantissimo Vediamo Attenzione Attenzione chi è? Attenzione È proprio lei È Lilith ragazzi È proprio lei È Lilith Guardate che bellina Che carina La figlia di Dracula Starà in piedi? Si Allora voglio trovare quelli che brillano al buio raga Vediamo dallo spacchettamento Piano Attenzione vedo qualcosa Vedo Vedo un piede È il pollo? No raga Guardate chi è? Questa skin se l'abbiamo poi eh Cioè molte di queste se l'abbiamo Però questa mi sembra che era da scioppare nello stumble pass Quindi non è che sia proprio comune comune eh Il Sam 6 raga Il Sam 6 abbiamo trovato Cioè guardate tutte vicine Che belle Continuiamo a spacchettare raga Perché abbiamo un box intero Qua chi c'è eh? Glow in the dark Glow in the dark raga Attenzione raga Attenzione non è glow in the dark Ma è proprio Mamma mia lo scheletro Si vedono tutti gli organi dentro Riuscite a vedere? È la skin inside out È proprio lei Batte il cuoricino con i polmoni Con la milza Il fegato Tutte le cose Lo mettiamo qua davanti Nemmeno lui sta in piedi raga E beh è mezzo aperto poverino Dovrebbe andare all'ospedale Prossimo Vediamo un po' Glow in the dark Allora Glow in the dark Vediamo raga Piano Chi è? Chi è? Non doppio Attenzione Sono contento che non siano tutti i doppi Questa cosa mi piace È il disinfestatore di caccole È proprio lui Starà in piedi? Si Ragazzi ancora ne abbiamo eh Ancora ne abbiamo da aprire Vediamo Il capitano Il capitano Gold Earth Capitano Capitano Bellissimo Raga guardate come brilla Ma è bellissimo Se questo dorato È tanta roba È il secondo cromatico Che ho trovato Il primo Era il pulsino metallico Se guardate che belle raga Che belle Queste 3D Miniatures Sta in piedi Bellissimo Quasi quasi lo tengo Sulla scrivania Se raga è bellissimo Se c'è la banana stesse su Queste qui sono due delle skin Che mi piacciono tanto Però io voglio il pollo Forza Una che brilla al buio Una che brilla al buio Me la devi dare Una che brilla Attenzione chi è? Chi è? Chi è? Vedo un testone La mummia È la mummia raga È tutta un camomilla Ma non brilla al buio purtroppo Non brilla al buio Perché quelli che brilla al buio Sono questi Il soldato E il glowing Effettivamente Let's go forza Non ne rimangono tanti di questi pack Vediamo chi è Raga vedo dei piedi Vedo dei piedi Il canguro boxer Non si credo Tutte diverse Il canguro boxer raga Guardate che bello Ho 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 Chi vuole combattere Ok canguro boxer Che sta in piedi Per fortuna Se solo tre non stanno in piedi Poverini eh Vediamo un po' Forza forza Quelli che brillano al buio Secondo me sono i più rari Attenzione Ho aperto sto pacchetto malissimo Oh Sì Il soldato che brilla al buio raga Il soldato che brilla al buio Riuscirà questo soldatino A brillare Mettiti a fuoco magari A brillare al buio E io che ne so Spegniamo le luci 3 2 1 Blackout Oh mamma mia Bellissimo discoteca Per fortuna che c'è la sedia Allora brilla Si vede? Non è che si vede tanto Si vede più la mia sedia E luce sia Ok raga Quindi abbiamo trovato anche il soldatino Vediamo Vediamo un pochettino Chi troveremo qua Chi è chi è Attenzione Non ce l'avamo È proprio lui Il lottatore Che mi ricorda È il primo ragazzi Chi se lo ricorda è il primo Wow 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 Cioè guardate che belli tutti insieme Raga Ultimo pack Vediamo Chi troviamo qua dentro Lo squalo Con la coda Bellissimo raga Abbiamo trovato anche lo squalo Fantastico Cioè comunque Cioè questo raga È bellissimo Cioè fatto benissimo È fantastico Mi ricordo poi che era una delle prime speciali Che volevo trovare Che non trovavo mai Ragazzi Guardate che belli tutti insieme Io spero che il video vi sia piaciuto Se volete Un altro Gigante Box Di stumble guys Fatemelo sapere Perché magari li chiamo E ce ne facciamo mandare tre Da me tutti Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao